ciao bentornato a business perfetto la rubrica di aiutare a realizzare la tua idea o a migliorare la tua azienda come detto nel video precedente oggi ti aiuterò a comprendere la tua idea tutti noi abbiamo delle idee quante volte vi è capitato di dire caspita se faccio questa cosa qua faccio il botto a me capita spesso capita forse troppo spesso pensare di fare un'idea nuova di sviluppare un'idea nuova e proprio per questo proprio perché ho diciamo indirizzato la mia mente nella creazione lo sviluppo delle attività e forse è il motivo principale per il quale mi viene così facile scoprire e capire le idee delle persone pensate quando io ho realizzato la mia prima attività quindi il mio personal business basato sulla mia persona ho iniziato da solo ho creato il mio piccolo sito in wordpress guardando dei tutorial online perché ne avevo molti soldi anzi ne avevo proprio zero ho ottenuto un dominio gratuito per un po' di tempo ho iniziato a comunicare a condividere in modalità totalmente gratuita attraverso facebook conoscendo persone e scoprendo quello che a loro era importante successivamente con le prime risorse ho iniziato a fare pubblicità scoprire quant'altro e andare avanti certamente prima di fare tutto questo processo ho studiato e continuavo a studiare e continuo a studiare oggi perché non pensare di realizzare un'attività significa non studiare in realtà e come ho detto nei video precedenti realizzare un'attività significa fare un viaggio dentro se stessi fare un viaggio perché la mattina quando fai un'attività che è tua devi essere tu quello motivato a svegliarti e andare a lavorare perché nessuno te lo dirà non hai un obbligo di orario non hai un cartellino a timbrare ma hai soltanto un sogno nel cassetto che vuoi realizzare e allora per aiutarti a capire la tua idea come ho detto nel primo video devi iniziare a farti delle domande importanti scoprire chi sei cosa vuoi perché lo fai ti aiuterà a sviluppare quella idea in un modo totalmente laterale sì quello che viene detto pensiero laterale se ne vuoi sapere di più leggi libidi del buono è colui che l'ha inventato comunque che ha trovato questa tipologia di pensiero nostro alternativo perché il pensiero laterale e perché ti parlo di pensiero laterale perché quando sviluppi un'idea non puoi pensare di sviluppare un'idea seguendo le vecchie regole oppure copiando un'altra persona ma devi pensare di sviluppare un'idea andando a utilizzare quello che riguarda te stesso i tuoi valori i tuoi principi perché la devi rendere personale personalizzata la devi rendere tua devi fare in modo di che ogni volta che parli le tue parole siano coerenti con quello che tu fai coerenti con quello che tu credi quindi ogni impasso che tu fai non deve essere verso la vendita o verso dire ah così guadagno di più no deve essere verso un contributo realizzare qualcosa che aiuti un'altra persona quindi per capire le tue idee cosa devi fare semplice inizia a scrivere scrivi non utilizzare niente che sei digitale perché anche se la tecnologia ci può aiutare un unico modo per portare fuori tutto ciò che abbiamo dentro è utilizzare uno strumento molto semplice scrivere, trasformare, trasferire quello che abbiamo nella nostra mente fuori è quello che devi fare inizia a scrivere, scrivi di te, scrivi cosa vuoi, scrivi cosa desideri scrivi come deve essere la tua idea, disegnala, disegna quello che vuoi vedere quindi se hai ben capito per realizzare la tua idea quello che devi fare è fare un viaggio dentro di te e estrapolare tutto quello che hai in mente riguardo alla tua idea ricorda di questo, nulla nasce nel niente se prima non l'hai immaginato ci vediamo nel prossimo video dove vi spiegherò cosa non fare un video molto speciale dove ti parlerò di quali sono i più grandi errori e quello che di solito mi capita e mi tocca di aggiustare nelle aziende che sono già create a presto, ciao!